Il prossimo venerdì 15 dicembre ricorre l'Influ Day, una giornata dedicata alla promozione della vaccinazione anti-influenzale organizzata dall'Assessorato regionale alla salute e dal Dipartimento per le attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico nell'ambito della campagna anti-influenzale 2023. In questa occasione tutti i centri vaccinali della provincia apriranno le loro porte senza necessità di prenotazione offrendo a chiunque voglia la possibilità di vaccinarsi dalle ore 9 alle ore 13. Inoltre gli ambulatori vaccinali di Caltanissetta, Gela, San Cataldo e Mussomeli estenderanno eccezionalmente il loro orario garantendo la possibilità della vaccinazione anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 per consentire ad un numero maggiore di persone di ricevere la somministrazione del vaccino anti-influenzale. La vaccinazione sarà totalmente gratuita per gli individui di età superiore ai 65 anni e per tutti coloro che rientrano nelle categorie a rischio, inclusi adulti e bambini affetti da patologie croniche operatori dei servizi pubblici, operatori sanitari e di assistenza. Questa iniziativa ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità nella prevenzione del virus influenzale sottolineando l'importanza della vaccinazione per proteggere sia la salute individuale che quella collettiva.